Buongiorno a chiamarle un po' di messa No, me lo può fare, è l'altro pochissimo Ah, grazie Puoi arribitarmi, tutto più feo Però, poi è tutto qui, lo vediamo Magari, poi, non ci sono No, 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 no E' che lì c'è stata questa sinistra Cintina minuta, adunque, il dito proprio Senatore Pozzogna, non eser testo, sono a te Brava, amico Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.